Ciao a tutti ragazzi e super bentornati sul mio canale, io sono Cecilia del magazine online fashiondogitalia.com e di corso di cucinapercani.it e in questo video vi svelo 5 modi per alleviare il cattivo odore che emette il vostro cane. Il primo metodo è sicuramente lavare almeno una volta al mese il vostro animale. Non mettete gli profumi e robe particolari, usate semplicemente uno shampoo idoneo. Vi metto il link in descrizione dell'articolo in cui metto tutti i prodotti che potete utilizzare. L'importante è usare un buon sapone, non prendete quelle cose al supermercato che dentro c'è l'inferno perché farete solamente del male alla cute del vostro cane che l'assorbirà e quindi inevitabilmente poi emanerà cattivo odore. La seconda cosa che potete fare è quella di lavare i denti al cane. Non so se già lo fate, vi metto il link qua del video che ho fatto su come lavare i denti al cane. Mi raccomando non usate il vostro dentificio perché è tossico e velenoso per il cane all'oxilitolo, quindi mi raccomando solo dentifrici per cani. Link in descrizione del prodotto ovviamente anche per quanto riguarda il dentifricio che potete utilizzare. Un'altra cosa da fare è quella di curare ovviamente l'alimentazione per evitare che il cane abbia un cattivo odore perenne in bocca. Quindi potete seguire appunto il corso di cucina per cani se vi va o prendere le ricette gratuite che ci sono sempre sul corso di cucina per cani.it. E poi per quanto riguarda i biscottini io sconsiglio vivamente quelli classici, classici tricks, quelli che trovate al supermercato per l'alito perché dentro c'è di tutto di più. Se volete, tranne che il vostro cane sia un cane molto molto resistente, allora possono anche andare bene. Ma se avete un cane delicato come un maltese, un barboncino, un cane di media taglia, vi consiglio di preparare dei biscotti alla menta. Trovate la ricetta sul corso di cucina per cani. Ti consiglio ancora di pulire le orecchie al cane, di spazzolarlo quotidianamente e poi ovviamente, e poi anche di lavare sempre le coperte, la cuccia, insomma dove sta il cane, così da mantenere un ambiente pulito. In questo modo allevierai sicuramente l'odore che è intenso che il cane può emettere. Evita di fare stare il cane fuori quando piove perché ovviamente quell'umidità produce, rimanendo nel pelo, produce batteri che poi fanno cattivo odore. Quindi evita di lasciare il cane umido. Anche quando lo porti a passeggio, se piove, asciugalo sempre benissimo per evitare quel cattivo odore. Se il video ti è stato utile ti chiedo di zampare un like, iscriverti al canale e condividere il video sui tuoi social così che tutti possano guardarlo. Se ti va, fai una donazione libera tramite il link che ti metto qui sotto. Ti ringrazio, un bacione da me ed Ellie che gioca qui sotto. Buone feste, ciao!